Ragazzi e ragazze vi do il benvenuto su GasTube Drums, cosa numero uno che vi dico subito è che i corsi GasTube Drums finiscono mercoledì alle 23.55 ma attenzione sconto per il più veloce di tutti di 50 euro su un mio corso già scontato del 20% inserendo il codice GTD50 euro. GTD50 euro, ce l'avete scritto anche qua, fate veloci perché è un codice che vale una volta sola e ce l'avrà il più veloce di voi. Adesso possiamo partire col video, quindi riprendo, ciao ragazzi, partiamo. Ragazzi e ragazze benvenuti su GasTube Drums, questa volta il video è cominciato veramente, nuova reaction in cui vado a vedere i vostri studi, le vostre batterie, tutto quanto vado a giudicare, ovviamente in modo amichevole, tutto quanto. Oggi quattro di voi mi faranno, mi mostreranno tutto il loro studio. Vi ricordo se volete mandarmi i vostri video lo potete fare tranquillamente prendendo il vostro cellulare, dove è il mio qui, prendendo il vostro cellulare possibilmente fatemi i video in orizzontale con un pochettino di ritmo. Qui sotto in descrizione c'è scritto tutto quello che dovete fare per registrare il video, no, non è vero, per mandarmi il video, molto semplice, basta cliccare sul link in descrizione e caricare direttamente il video lì sopra e io lo vedrò subito, pian pianino farò passare tutti, come dico sempre, i video sono veramente tanti, quindi con calma passerete tutti tranquilli. Direi di cominciare, quindi mando la sigla e poi vediamo il primo di voi che mi ha mandato il video con lo studio. Sigla! Ok, cominciamo subito con il primo di voi, mi metto le cuffie in modo tale che possa sentire qualcosa e possa sentire quello che mi sta dicendo. Cominciamo con Luca Alberto Ferreri, Loudly Drummer, video mandato in verticale, va bene lo stesso, in qualche modo in montaggio me l'ha giusto, ma se riuscite fatemelo in orizzontale, mi raccomando, così almeno riesco a farvi vedere belli grandi, io mi metto piccolino, eccetera, ma comunque andiamo, vai Luca! Ciao Luca, io sono Alberto Ferreri, ho un profilo Instagram e YouTube chiamato Loudly Drummer, dove suono, o almeno ci provo, e questo qua è il mio bunker barra studietto, adesso ve lo mostro meglio. Molto bello, molto carino, a prima vista. Eccoci qui, partiamo dalla batteria, allora, batteria ha una DV Performance montata in questo momento. Bellissima quella, mamma mia. Sto usando principalmente main come marchio, purtroppo, devo completare la serie, è abbastanza caruccia, quindi ho alcuni super city di battaglia, tra cui appunto questo splash da 10 Piest, PS3, che è proprio economico. I piatti sono tanti, devo dire. I explosion sabbia. Molto bello comunque. E poi iniziamo con tutto l'armamentario main, quindi un Byzance classico appunto da 14 mm, da 14 mm, Byzance Extra Thin Hammerhead Crash da 18 mm. Belli quei piatti lì, molto particolari e bellissimo. Uno splash anche di Superstite Classic, sempre main. Byzance Dark Ride da 22 mm. Quello è bassissimo come intonazione bellissima. Medium Thin Crash, sempre Byzance da 19 mm. Ok. Uno stack B8 sabbia. Un po' matto quel piatto lì. E un Byzance Dark Trash Crash da 18 mm. Ok, ottimo. Sempre main. Ottimo, molto belli piatti. Come rullante in questo momento sto utilizzando questo Pearl Signature Matalpern. Ok, non l'ho mai trovato quello. Un rullantino abbastanza potente. Direi di sì, visto il mattelista. Da 14 pollici per 6,5 mm. Ah, misure gusti. 12, 16, 18. 18, bellissimo. Superfetto. Bellissimo. Suona abbastanza grossa in acero. La cassa sarà una 22, credo. Si conosce. Cassa da 22 pollici. Ho montato un Direct Drive doppio. Yes. Sempre DV. Bello, veloce e potente. E il resto delle meccaniche ho tutto Tama. Quindi qua c'è il pad con varie bacchiette rosicchiate. Solito. Tutto appunto Tama. Che bella. Che bella. Tutte le aste. E batteria 1 è andata. Ah, quella è la 1. Batteria 2. Ah, ok. Ho questa Yamaha Absolute Hybrid. Ok. 10, 12, 16. Face alte come batterie, devo dire. E questo rullantino che lo riconoscerai. Starphonic. Starphonic. Da 14, come il tuo. Direi in acero. E niente, batteria 2 è andata. Batteria 3 ce l'ho smontata. Che la uso solo per i live. È una Satur 5, 10, 12, 14, 16 classica. Lo studio è stato... Io lo uso per registrazioni e per comunque divertimento. È stato, diciamo, adibito e trattato appunto anche per le riprese. Quindi abbiamo un cloud qua sopra. Ok. Una chitarrina lì che usiamo per gioco. Varie bass trap e pannelli per le riflessioni. Il mio Mac. E questa qui, diciamo, è la postazione dove mi cimento a mixare e un minimo a produrre. Ottimo, ottimo. Molto bello. Ti ringrazio Luca per l'opportunità. Un saluto. Se volete cercarmi sui social appunto l'Audrey Drum su Instagram e YouTube. Ciao. Ottimo. Grazie mille. Ciao. Grazie mille Luca. Beh, allora. Lo studio è molto bello. Lo studio è veramente fatto molto bene. Devo dire da vedere. Poi probabilmente suonerà molto bene perché appunto ci ha fatto tutta la questione del... Come si dice? Dell'assorbimento. Tutta la gestione del suono in generale. E batterie, che dire ragazzi? Cioè batterie a tre batterie pazzesche. A parte la DV che è la sua batteria principale, almeno quella che aveva montato lì. Molto bella. Piatti. Hai scelto i Bisons che sono piatti di Minol molto 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 interessanti perché hanno quel qualcosina in più che li rende piatti non normali. Quindi danno subito, come si dice, un po' di caratterizzazione a tutto quello che suoniamo. Quindi veramente ottimo. Timpano da 16. Timpano da 16. No, scusate. Timpano da 18. Non so se vi è mai successo di provare un timpano da 18. Io ne ho uno con la mia Pearl. E ha una potenza devastante. Ovviamente non si può usare nei localini. Ma se è suonato live all'aperto ha una potenza veramente devastante. Belli. Il timpano 16 18, 12, 16, 18, o addirittura 13, 16, 18. Spaziale. Spaziale. Quindi complimenti veramente per le batterie perché appunto DV, Yamaha, non ricordi custom, absolute e Mapex Saturn sono batterie veramente di livello alto alto alto. Studio molto bello. Trattato a quanto pare molto bene. Ti registri. Oh, hai tutto quello che ti serve. Quindi ottimo. Veramente complimenti a Luca. Andiamo avanti con un altro video verticale, eccolo qua, un po' più breve, di Matteo Montecavalli. Vai Matteo, facci vedere il tuo studio. Ciao Luca. Ciao. Questo qui è il mio set. Sono Matteo da Cesena. È un set composto da una cassa 2220. DS abbastanza vecchia. 14x8, un timpano 14x14 e poi, una bella sorpresa, un rullante 14x5, con due fori da due pollici. Ti fa riuscire la di aria. Ti ho chiesto di fare esattamente a Luca De Orso, per avere un rullante con più attacco e potenza. Molto bene. E i piatti sono piatti praticamente zido. È strano. Partendo dal Charleston è un a custom projection da 14 pollici. Tutto a custom, quindi forse. Un crash ha una custom da 17 pollici e il ride ha uno sweet ride da 21 pollici. L'altro crash è una custom da 19 pollici e poi, chiude il set, una saina da 20 pollici e oriental. Bellissimo. Quello è bellissimo. Niente, questo è il mio set. C'è anche il pedale DV5000. Ok. Mi trovo molto bene, suono con questo set studio e suono ogni tanto appunto col mio gruppo. Ottimo. Molto bello. Questo set si adatta molto bene, vedo a generi abbastanza rock, punk rock, pop punk e niente, dove c'è della potenza questo è perfetto, diciamo così. Soprattutto con la cassa 2220 non vi dico che botta che ha. Ci credo, ci credo. È proprio potente, devo dire la verità. Mai, non ho trovato mai una cassa, diciamo potente come questa in giro. Ci credo. E niente, detto questo, un salutone, bellissima l'iniziativa. Grazie. Di farci, diciamo, farci vedere i nostri set. Grazie mille. Di confrontarci. Molto bella, molto bella l'iniziativa, assolutamente. Un salutone e alla prossima. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille Matteo. Allora, batteria direi DS vecchio stile, perché c'era ancora la scritta Drum Sound. Molto, molto interessante, vabbè, sulle DS, devo dire che, a parte che è un marchio italiano, quindi, figata. Però, io mi sono sempre trovato molto, molto pronto bene, con DS o Drum Sound, comunque, intanto il marchio è quello. Per quanto riguarda la cassa, allora, devo dire che, per quanto mi riguarda, la cassa 22x20, probabilmente, da suonare, da sentire, come sensazione, deve essere molto bello. Credo di non averla mai suonata una cassa 22x20, deve essere molto bello perché si sentono molte bassi, molto attacco, eccetera. Quello che credo, perché io ho provato tante 22x18, alcune le ho anche, è che secondo me troppo profonda, per i miei, per i miei gusti, però, perché nel momento in cui gli metti un microfono e la mixi, senti tante di quelle basse che devi toglierle, eccetera, eccetera. Quindi, per quanto mi riguarda, cassa 22x20 è troppo. Poi, ovviamente, è una cosa super personale, io sono per le casse 22x16, o forse 22x14, cioè, casse più strette, perché hanno un bel attacco, hanno una panciosità buona, senza esagerare, però, perché sennò poi il mix è un problema con tutte queste basse, come al solito, le basse nel mix sono sempre un po' un casino, però, detto questo, sicuramente avrà una potenza pazzesca. I piatti, tutti a custom e a vedis, direi, perché forse il ride era a vedis, non a custom. China, Oriental China, ragazzi, se state cercando un China potente per far rock, quello è il China, secondo me. Io ho un Oriental da 18, che utilizzo e non utilizzo, adesso non utilizzo più tanto, ma l'ho utilizzato per una vita, è veramente un China pazzesco, ma non ha senso quel suono, quindi, veramente, molto, molto, molto bello. Complimenti, Matteo, per la batteria e grazie per il video. Allora, andiamo avanti con Solarino Maurizio, che, aprendo la schermata, devo dire che la batteria ce l'ha, e ce l'ha anche abbastanza grossa, direi. Quindi, vediamo un po' se ci spiega bene tutto, speriamo ci spieghi bene tutto, perché io sono super curioso, vedo anche già dei Rototom, lì, eccetera, degli Octobank, c'è un po' di tutto. Quindi, siamo pronti? Vai, Maurizio! Buongiorno, buongiorno a tutti i ragazzi che guarderanno il video. Ciao! Mi chiamo Maurizio, alias Soul Drummer, come se vince dalla maglietta, che è il simbolo del piccolo canale che ho aperto anch'io ultimamente qua su YouTube. Ottimo! Ho 55 anni, ho ripreso a suonare da qualche anno dopo tantissimi anni di natività. Grande, grande, grande. Quindi mi trovo qua adesso, diciamo, nel mio covo, che condivido insieme ad un altro gruppo, per presentarvi lo strumento che sono andato ad acquistare, che piano piano mi sto architettando, sperando che mi piaccia. E quindi, niente, senza perdere altro tempo, magari vi faccio, vi elenco un attimino i vari pezzi, le varie componenti, magari da un'altra angolazione, così ve li posso elencare meglio. Ottimo, anche perché ce ne sono di pezzi, e devo dire, con tanto di sigla. Grazie, con una visione dall'alto, per quanto non ci sia tutto del drum set. Allora, la batteria è una Premier Genista, ho acquistato appunto la Premier perché avevo avuto la pick-up tantissimi anni fa e era veramente molto resistente nelle meccaniche, eccetera, quindi ho voluto riacquistare questa. Fra l'altro è una bella finitura, e sono molto soddisfatto perché è una batteria, insomma, dove ci si può legnare efficacemente. Dopodiché, diciamo, nel dettaglio, ora abbiamo un rullante, intanto, 14x6,5, con la pelle della Evans, che avevi fatto un video anche te ultimamente, Luca, bella con la pelle, e almeno ultimamente, perlomeno l'avevo visto io, dove appunto la provavi, con la doppio strato, col dot centrale, molto resistente, una pelle secondo me validissima, mi è piaciuto, ho seguito il tuo video e l'ho acquistata, ok, grazie. però va tirata al punto giusto, bisogna trovare il giusto punto di tiraggio, quella è da tirare, è una grande pelle, comunque, secondo me. Poi come componenti abbiamo detto, il rullante, poi abbiamo i tom da 6x8x10, che ho acquistato ora ultimamente, e quindi per il momento l'ho messo in questa posizione, dovevo trovare un attimino una soluzione, li sto provando, testando, due octoban da 6x8, che sono validissimi, perché oltre al suono particolare, ti danno anche la possibilità di avere, praticamente, due piccoli tom in più, da poter fare, insomma, delle scale, da poter fare dei bei passaggi, tra come le stando che, essendo da 6, bisogna avere una mira buona, perché i primi tempi sono più i bordi, che si prendono, che è il centro della pelle. Poi abbiamo, naturalmente, i tom da 10x12, il timpano da 16, 10x12x16, le rullante abbiamo già parlato, cassa? Passiamo adesso ai piatti, a poi, naturalmente, adesso vediamo se descrivo in quadrale, abbiamo un doppio pedale dell'iron cobra, della tama dell'iron cobra, un doppio pedale che utilizzo, insomma, eccetera, e poi abbiamo qua, appunto, i piatti che sono tutti, diciamo, medio-bassi, alcuni proprio anche scadenti, però per il momento, per il tempo e l'uso che devo fare io, va benissimo. Poi gli HCS vedo. Ho un charleston da 13, dalla mail, perché da 13? Perché poi qua, adesso vi cerco di farvi vedere, ho composto io una specie di stack con questo piatto che era rotto, sotto ho messo un china da 14, e ho creato questo stack che praticamente ha un effetto tipo charleston aperto, quindi praticamente questo è un suono più aperto, più potente, che risulta come quasi un 15, direi, e questo qua è invece più sottile, quindi per questo lo presenterebbe per avere il doppio sound, diciamo. Ci sta, assolutamente. Poi abbiamo un china da 18, l'SBR Ozone con i suoi buchetti, i gemelli, come li chiamo io, della mail, lo stack della mail che è validissimo, da 12, lo splash da 10, un altro china da 16, un crash da 18, poi abbiamo detto appunto il piatto particolare che ho creato, efficace, e poi questo, signori, che secondo me è veramente il massimo. Questi sono due piatti che erano devastati, che ho sovrapposto, e probabilmente dell'intero set è quello più efficace, ha un suono veramente potentissimo, è anche quello più assurdo, a livello di tutto, secondo me. Come ultimo, ma non per importanza, vi vado a elencare questo, che praticamente, anzi, se qualcuno mi potesse aiutare, questo io so per certo che è uno Zildian, perché c'è una targhetta bulinata dove si legge appunto la marca, ma non si legge il modello. Questo mi è stato venduto dal rivenditore, così c'aveva questo piatto usato, di tutto impolverato, io l'ho un attimino rinfrescato, rimesso a nuovo, devo dire che suona benissimo, ed è validissimo, però non so dire che modello sia, comunque deve essere datatissimo, di avere almeno una ventina d'anni questo piatto, quindi se qualcuno, così a grandi linee, capisco che è difficile, riuscisse a capire di cosa si tratta, sarebbe anche caro per me saperlo. Niente, ragazzi, questo insomma è un po' tutto, vi faccio ancora una visione dall'alto per quanto possa riuscire, e vi ringrazio per l'attenzione, ciao Luca, grazie a tutti, a presto. Grazie mille a te, grazie mille a te Maurizio, e allora, beh, la batteria è molto bella, devo dire che poi quando io mi trovo davanti a delle batterie così grandi, mi prendo sempre bene, mi piacerebbe sentirla e potermi sedere e provarla, perché comunque, hanno sempre il loro fascino, le batterie così grandi, quindi devo dire che per prima cosa la Premier in realtà non la conosco, quindi non so dare un giudizio, per quanto riguarda i piatti, lui ha tanti HCS, che comunque ho già fatto dei video anche sugli HCS, e sono dei piatti economici che però sinceramente mi piacciono, forse sono tra i piatti economici più belli in questo momento, e almeno quelli che consiglierei di più a chi vuole un set di piatti non troppo 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 economici, ma comunque appunto stando sul medio economico, poi ce n'erano altri, visto anche un Paese 101 che più o meno, non mi fa impazzire, ma lo Zildian purtroppo non ti so dire, perché non sono uno di quei super nerd che vede un piatto e ti dice modello, marca, anno di riferimento, batteristica l'hanno usato, eccetera, ma speriamo che magari qualcuno vedendo quel piatto gli basti con la visione del piatto per capire che modello è o comunque che ti dia qualche dritta magari per riuscire a capire poi il modello. Quindi mi raccomando, se avete informazioni, eccetera, scrivetelo, che almeno gli diamo una mano, diamo una mano a Maurizio a capire qual è il piatto che sta utilizzando. Sappiamo che è uno Zildian, quindi già la cerchia è un po' più ristretta, però almeno abbiamo tutto, almeno magari qualcuno lo sa e ce lo dica. Allora, andiamo avanti con l'ultimo che è Paolo Lacone. Paolo, siamo pronti, vedo già una batteria, Tom, due timpani e un, come si chiama, non un bongo, uno jambè e un rullantino sulla sinistra. Vediamo cosa ci racconta. Vai Paolo. Ciao Luca. Ciao. Questo qui è il mio piccolo studio. E questa qui è la mia piccolina. Taman Superstar Hyper Dry. Piccolina più o meno, devo dire, piccolina. Molto bella. Misure. Finitura. 22x16 per quanto riguarda la cassa. E vai, 22x16. Tom, e 12x7. i due timpani invece, 14x12, 16x14. Rullante 14x5. Ok, doppio rullante. Come piatti utilizzo la serie ZBT Chavelin da 14, Ride da 22 e quest'altro Crash da 17. Ok, che probabilmente ha comprato un set. Sabian XS da 18 e anche due Zultan uno da 17 e uno da 18. Che non ho mai provato. Per quanto riguarda le meccaniche utilizzo tutto Tama. Pedale Speed Cobra. Molto carino. Il Charlie, l'assa del Charlie, Iron Cobra. Per quanto riguarda invece la registrazione, utilizzo un UMC 204 HD. Ok, arriverà un video a breve in cui uso un microfono panoramico e un altro invece l'ho tuffato dentro la cassa. Ah ok, ci sta. Grazie a tutti. Grazie mille a te. Ah ok, chiuso così. Va bene. Grazie mille a te Paolo. Allora, peccato non ci abbia parlato dello Jambè ma detto questo Hyperdrive di Tama è carina, è molto carina. Quella l'ho già provata. La finitura mi piace comunque è una finitura non particolarmente assurda ma comunque è un... quella finitura lì secondo me nera e rossa è un po' un sempreverde come... cioè è sempre bella quindi bravo ottima scelta e per quanto riguarda la cassa come avete visto ad esempio lui ha la 22x16 come vi dicevo prima a me 22x16 piace molto più delle 22x18 più della 22x20 Piatri Zultan non li ho mai provati purtroppo altre cose direi basta direi che no la cosa interessante è che effettivamente da come ho visto i piatti lui probabilmente ha comprato gli ZBT come set e poi se hai comprato dei piatti aggiuntivi quindi il set l'ha lasciato lì e poi ho comprato il resto quindi è una cosa che effettivamente ogni tanto almeno per quanto mi riguarda non si pensa nel senso che ho comprato un set adesso quel set lo metto da parte e mi compro i piatti nuovi diciamo e si pensa faccio tutto da zero così mi compro i piatti che voglio è una cosa ma dall'altra parte volendo si piglia il set e lo si va a espandere noi batteristi abbiamo questa fortuna di poter sempre espandere tutto e di poter inserire un piatto con un altro inserire le varie le varie abbiamo mille possibilità quindi è una cosa che il nostro strumento ci permette e secondo me è una cosa bellissima perché poi ognuno ha veramente il proprio strumento e la propria personalità nel costruirsi il proprio strumento come vuole quindi con questo ragazzi abbiamo finito qua il video grazie mille come faccio sempre vi ringrazio tutti quindi Paolo Matteo Luca e Maurizio per avermi mandato i video vi ricordo se volete mandarmi i video con cellulare va benissimo basta che sia orizzontale possibilmente se proprio riuscite a farlo verticale basta va bene anche verticale se potete orizzontale un po' di ritmo quando parlate qui sotto in descrizione avete il link per caricarmi il video avete tutta la spiegazione comunque di come caricare il video io vi ricordo ancora che i miei corsi Gastio Drums sono in sconto fino a mercoledì questo mercoledì alle 23.55 vi ricordo se non è già stato usato che c'è uno sconto di 50 euro su un mio corso inserendo il codice gtd50 euro e basta comunque detto questo ragazzi i corsi rimangono in sconto del 20% fino a mercoledì con questo ci salutiamo e noi ci vediamo al prossimo ciao